C'è stata da poco la protesta dei sindacati e degli inquilini Haller e come commenta le risposte l'assessore Franco? Io credo che l'assessore Franco dovrebbe vergognarsi perché invece di dare risposte efficaci agli inquilini che vivono nelle case popolari e di spiegare perché non fa nulla di fronte a 19.500 case di proprietà regionale vuote, case Haller, Franco passa il tempo a polemizzare sulle vicende riguardanti la neo-euro parlamentare Ilaria Salis, lui deve spiegare cosa ci sta a fare, ci sono 19.500 case vuote di proprietà regionale, non sta muovendo un dito ed è davvero colpevole di immobilismo e inerzia.